Ma io semplicemente, mammi, che lo sai, io e Andrea ci saremo per te e sono certo che ce la faremo, mammi, e l'amore, l'amore ci aiuterà. Tu sei sicuro, infatti, anche io. Io sono certo. Dobbiamo essere sicuri. È certo. La malattia vuole ottimismo, il corpo è una cosa viva. Assolutamente. E questa è la cosa che secondo me è la cosa più bella, che tu riesci a trasmettere un messaggio positivo e anche un atteggiamento che è raro per una persona che comunque deve affrontare un percorso difficile. Vediamo dopo questa prima volta. Fino adesso te l'hai cavata bene. Sappi che ieri sera l'ho fatto ridere alle lacrime. Dì la verità. Alle lacrime. Perché il senso di humor non avrei fatto tutte quelle commedie, no? È vero che ti ho fatto proprio ridere. L'ho fatto proprio ridere. Però ecco, diciamo che l'aver reso pubblico tutta questa situazione ha aiutato in primis mamma, ha aiutato un po' tutti noi. E non è possibile spiegarlo. Innanzitutto mi ha tenuto occupata, come ti ho detto, quattro giorni, perché duecento messaggi, tre minuti l'oro, l'uno sono seicento minuti, sono dieci ore. Quindi tutto questo amore ti ha proprio fatto bene? Mi ha permesso intanto di essere occupata, a leggerli. Tutti questi giorni sono passati così, rispondendo, rispondendo. Poi ho fatto sui social, ho trovato un mare di colleghi che ringrazio col cuore tutti.